Ciao a tutti, benvenuti a Christian Play E' rimasto che è arrivato nell'episodio che si titolava Il Sacrificio e Marco Matui Quindi proseguo con i nuovi episodi E' qua C'è qualcosa di che c'è la città? Il tutto ce la c'è la carta C'è un po' di farlo C'è un po' di qui mi ha detto che ci sia un po' di passaggiore Ho parlato con il mio amico di l'episodio Si può fast-track il passaggio La pensazione che ti sarebbe piaciuto Grazie, non è solo un passaggio My daughters are in trouble My grandson is still missing And I can't let the monsters get him My life is falling apart And I'm doing everything I can To hold it together Shh We can figure it out Together It feels like I'm running away If it hurts, you're running towards safety Think of it that way And I just leave my daughters and Orson behind The boy is still missing Why do you have this? I was going to explain that to you Now is as good as time as any You have to understand that I'm only trying to help The people in this town are suffering They're going to the hospital and they're not getting better They're dying, Mette Did you do that? I'm not killing them I'm freeing them Freeing them? From what? From whatever it is that is happening to this town Look around you Don't you see something terrible happening out there? This looks very bad, Mette I know what it looks like And I'm telling you I helped those people, Carl I know you think you did I did, Carl They were in so much pain They have no hope left But does that give you the right to kill them? No matter how merciful you thought you were being You have to believe me What I believe makes no difference The police are going to come after us one way or another I was careful The police will never figure it out And even if they do We will be long gone by then That's why we have to leave now Before it's too late You look exactly the same I haven't aged a day Mince Don't leave Stay Have a drink both times Just bring you up What do you want? I want what every podcaster wants The exclusive interview To sit down with the new matriarch Of the infamous Johansson family My condolences By the way What would I possibly stand to get From talking to you? You could give the world Your side of the story People love a tragic figure Right You talk with me And the next thing you know Maybe those investigations go away Maybe someone hears about your son And has a leak I've heard your interviews What did you call that woman? Oh yes Of the baby killer of Bergen Can't imagine what you'd call me Look I'm going to do a podcast About you and your missing son I don't know I'm interested in the truth The truth is Relative So whose story do you want the public to hear? Yours Or mine? Can I get you to anything I'm good I was just going But she did you microbi Can I get you to anything? RACHEL HERNANDEZ, YOU STAND ACCUSED OF CRIMES AGAINST THE FOUNDATION. THIS FARBUTLE WILL DECIDE YOUR FATE. WHAT ARE THE CHARGES AGAINST HER? SHE PERFORMED AN UNAMPROVED RITUAL FROM OUR SACRED WRITINGS, MUTILATING HERSELF AND DECECRATING THE SANCTUARY OF OUR FOUNDATION. AND HOW DID YOU COME UPON THESE WRITINGS? I SEARCHED THE DEPTHS OF THE LIBRARY. A SERIOUS CHARGE. WOULD ANYONE ELSE LIKE TO PRESENT EVIDENCE? WHEN EXAVIER WAS INCAPACITATED, RACHEL SUPPORTED ME TO LEAD IN HIS ACTIONS. WE'VE ALWAYS HAD OUR DIFFERENCES, BUT SHE PUT THEM ASIDE FOR THE SAKE OF THE FOUNDATION. RACHEL'S LOYALTY WILL BE NOVED. RACHEL, BEFORE THIS FARBUTLE BESIDE YOUR FATE, DO YOU HAVE ANYTHING TO SAY ON YOUR HALF? I KNOW THERE ARE MEMBERS WHO HAVE BEEN LOOKING FOR REASONS TO HAVEN'T EXPELLED. SO LET ME SAVE YOU THE TROUBLE. I'M LEADING THE FOUNDATION. DEFLE, RACHEL, WHAT YOU SAY NOW CANNOT BE UNSET. GO AHEAD AND WRITE IT IN ONE OF YOUR SACRED TEXTS. I NO LONGER TRUST THE FOUNDATION OR ANY OF ITS LEADERI. I'M LEADING THE FOUNDATION AND YOU ALL. RACHEL, MORE, THINK ABOUT WHAT YOU'RE DOING. THAT'S THE PROBLEM, I HAVE THOUGHT ABOUT IT. GOOD LUCK. CONSUMENT. Ok. Questi sono gli episodi. E così RECCERE, c'è lasciato la fondazione. Obiettivo. Ok, LOCKIN NEL SESTO GIONO. Ok. vediamo un pò, voglio solo a vedere casetta di sicurezza, manettone, asci, percorsi sono bloccate, adesso la casetta di sicurezza risolve il forzito facendo ritirare tutte le lame i quadrati su entrambi i lati controllano le lame ma dovranno essere usati per attenzione perché le lame diverse hanno quadrante venti diverse oh signor, che è sta roba l'obiettivo di questa puzzle è eliminare tutte le lame ok, tutte queste qua, ok il quadrante sinistro controlla simultaneamente tutte le lame sinistra dal suo punto di partenza un quadrante può essere ruotato due volte in entrambe le direzioni prima questo pulsante per ruotare il quadrante si può stare le lame verso sinistra una volta registrato un quadrante lo utilizzerà un turno completa ogni parte nel minuto e un po' di tunne per poter guadagnarci con pensi migliori alcuni tipi di lame non possono essere ruotati lungomamente ad esempio questa lame allucinita può essere spostata solo con una chiave esagonale a coglioni innanzitutto clicca sul tasto esadecimale clicca sul quadrante ora fai il clic sul pulsante per spostare la lame a destra notare che la lame alluginita si è ritirata ma la lame normale si è ritirata il doppio con la chiave esagonale le lame fragili possono essere mosse solo frantumandole insieme avrai bisogno della chiave esagonale per frantumarli insieme una sufficiente forza fai che su questo ok notare che il quadrante e la chiave esagonale hanno spostato indietro la lame normale cancella l'aria spostata nuovamente la lame normale verso sinistra grande ricorda incontrare i lame diversi in pazzi diversi selezione pulsante informazioni per vederli tutti fantastico vabbè era solo una necessitazione ready go ci provo allora mmm 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 no no ecco la prossima decisioni, allora come gestirà la richiesta di me di scappare insieme? questa l'avevo già risposta, come sarà? ah se la richiesta di intervista di Nils ha in effetti attaccato alla credibilità di Nils ha in effetti attaccato alla credibilità di Nils ha in effetti attaccato alla credibilità qui spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! grazie 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 grazie